Di teatri belli nelle Marche ce ne sono in abbondanza, non a caso è chiamata la regione dei teatri. A Cartoceto, in provincia di Pesaro, c'è ne uno davvero speciale. Si chiama Teatro del Trionfo, è stato realizzato attorno al 1720 e grazie ad alcuni lavori di restauro è tornato oggi ai suoi originali splendori. Ha una struttura molto particolare, è composto da tre ordini di palchi a forma di ferro di cavallo e si presenta come un teatro nel teatro. Tutto intorno i mattoni e i palchi e il soffitto in legno. Raggiunse il picco dell'attività fra la fine dell'Ottocento e gli anni Quaranta, quando si esibirono prestigiosi artisti, fra i quali il soprano Renata Tebaldi. Questo teatro nel Settecento nasce su un deposito di olive e quando è stato creato non era ben visto dalla cittadinanza degli abitanti perché appunto Cartoceto, padre dell'olio e dell'oliva, era un posto sottratto al lavoro dei cittadini e quindi inizialmente questa creatura è stata un po' avversa, col tempo però è stata ed è diventata quello che noi diciamo sempre il vero luogo e la vera culla culturale di Cartoceto. Siamo riusciti a inserire circa 120 persone. Si può sfruttare ampiamente anche il palco che è quasi più grande della platea, tanto è vero che in passato l'abbiamo utilizzato anche in maniera inversa. Abbiamo messo il pubblico sul palco e gli artisti in platea ed è stato un vero e proprio successo. Negli ultimi anni si sono esibiti fra gli altri Fabio Concato, Antonella Ruggero, Sergio Camarriere rimanendo colpiti dalla meraviglia visiva del luogo. La prospettiva, l'assenza di palchetti e le decorazioni rendono questo teatro molto particolare, diverso rispetto al classico teatro bomboniera che troviamo negli altri comuni delle Marche. Abbiamo detto prima che la sua particolarità sono le strutture linee e le prime esibizioni che si svolgevano soprattutto durante il periodo carnevalesco nel regolamento del teatro si consigliava vivamente ai partecipanti di portare con sé un secchiello pieno d'acqua per affrontare eventualmente l'incendio che poteva venire dalla struttura linea. Quindi diciamo era un primo sistema antincendio. Uno scrigno di bellezza che ora è anche capofile a livello nazionale di un ampio progetto con un finanziamento di 2 milioni di euro. Renderà il teatro del trionfo di Cartoceto il primo polo performativo multisensoriale. Nell'ottica di questa amministrazione c'è di individuare il teatro certamente come luogo culturale ma anche come luogo che crei un indotto particolare dal punto di vista economico, sociale e culturale per tutto il borgo storico di Cartoceto.